Le regole di condotta dello sciatore sono state proposte negli anni 60, successivamente rivisitate e definitivamente normate nel 2002 al congresso di Portorose da parte della Federazione Internazionale Ski. Sono regole dedicate allo sci alpino, allo snowboard e al sci di fondo. Queste regole sono il modello ideale per lo sciatore, infatti tutti sono tenuti a riconoscerle e rispettarle. L'inosservanza di queste regole potrebbe portare a condizioni di colpa e quindi lo sciatore verrebbe a risponderne. Ogni sciatore e snowboarder deve comportarsi in modo da non mettere mai a rischio la propria e l'altrui incolumità, ecco perché la padronanza della velocità è il comportamento più importante. Ogni sciatore la deve adeguare alle proprie capacità, ai propri materiali, alle condizioni della pista, della neve, della visibilità e anche al traffico che c'è sulla pista. Lo sciatore affrontando gli incroci fra piste deve porre la massima attenzione. Prima di tutto deve porre in essere un controllo visivo sia a monte che a valle dell'area interessata, pur se la stessa è segnalata debitamente. Deve affrontare l'incrocio con prudenza e attenzione. Per quanto riguarda il sorpasso, lo sciatore lo può effettuare sia a monte che a valle, sia a destra che a sinistra. L'importante è che lo effettuino a distanza tale da permettere i movimenti volontari e involontari dello sciatore che sta sorpassando. Ad eccezione dei casi di necessità, la sosta deve essere effettuata a bordo pista nelle zone di massima visibilità. La sosta è vietata all'uscita di curve e sotto i dossi. Dovere morale di ogni sportivo è prestare soccorso in caso di incidente. Ecco che lo sciatore, in base alle proprie capacità, assisterà all'infortunato attendendo l'arrivo del personale della Polizia di Stato che esprita il servizio di sicurezza e soccorso in montagna.